buongiorno ragazzi genesi del tiro oggi parliamo dei quattro elementi fondamentali infatti quando parliamo di armi da fuoco e di tiro necessariamente dobbiamo individuare gli elementi fondamentali e la correlazione che c'è tra di essi allora andiamo a vedere i quattro elementi primo elemento il più importante il perno il cardine dell'intera catena noi il capitale umano secondo elemento un elemento molto spesso sopravvalutato mal interpretato la piattaforma l'arma da fuoco che altron è un semplice strumento un semplice tool terzo elemento il target ovvero l'elemento su cui noi andiamo a finalizzare l'azione del tiro quarto elemento il recipiente il contenitore cioè quel filtro che ci rolla al suo interno ovunque noi saremo questi sono i quattro elementi fondamentali che dobbiamo mettere in corredazione quando parliamo di tiro e di armi da fuoco